Sono partite a Forte dei Marmi le potature delle palme uccise dal punteruolo rosso. 20 esemplari che in questi giorni saranno rapidamente abbattuti tra il lungomare e le vie del centro, compresa Piazza Dante, dove da interi decenni le splendide palme abbellivano la piazza del municipio. Altre 20 palme sono sotto stretta osservazione e risultano compromesse. Purtroppo il lavoro di prevenzione e di trattamento fitosanitario eseguito dal Comune in questi anni non sempre ha dato i suoi frutti, ma resta l'unico strumento per combattere il punteruolo, come spiega l'assessore all'ambiente Emanuele Tomasi ai microfoni di Paolo Barberi. Il trattamento non è garanzia di successo, però qualche risultato lo ha portato. Poi adesso ci saranno degli altri, attraverso anche un'ordinanza del sindaco di Rietta, per la salvaguardia e la tutela delle nostre essenze procederemo quanto prima all'abbattimento di altre. Tanto questo è già stato un buon inizio. Per i privati è un appello che lancio per l'ennesima volta. Se qualcuno ha dentro un giardino di sua proprietà una palma che vede che sta avendo qualche problema sulle foglie che stanno cadendo, che stanno abbassando la loro portata, è bene che lo segnali immediatamente all'ufficio ambiente che ci si attiva subito. Perché è proprio così che si riesce a eliminare alla radice l'espandersi di questo parassita.